Poi chiaramente c'è quella che esiste il Gay Pride, l'orgogno, che è il primo e l'abbiamo cercato di esagerare. Ora, tenendo conto che si sta svolgendo il vertice del più venti a Cannes ed è stata risposta alla costruzione del Trattato di Sengono e con conseguenza il distinto dei controlli di frontiera tra Italia e Francia. La autorità francese ha imposto il biglietto di circolazione per i mezzi pesanti, quindi fino alle 20, i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezza verranno fermati ai vali di frontiera su da 10 in Piemonte e nella provincia di Munio. Sono esclusi dalla biglietta e dei due destinati al soccorso, al rapporto di persone o animali vivi. Per quanto riguarda le condizioni medio-maltetto, soprattutto al nord, sta fiorendo difendamente su Piemonte, Muglia, 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 Ostia e Nostia. E le predizioni possono un'interiore peggioramento. È confermata l'allestamento di questi giorni e ci sono segnalati dei piallegamenti sulla 12 tra Genova Nelvi e Genova Est e sulla 7 tra la 12 e Genova. Grazie a tutti. Ma non presenta, quindi ci va. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Soltiamo gli ascoltatori di Rai, il sito radio. E' 12.30. 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 Grazie.